esterno stadion ragazzi vi ricorderete quando nei giorni scorsi dicevamo dicevo il mio canale youtube mi raccomando vietato far sì che questa stagione da fallimentare diventi catastrofica perché non andare in champions league al di là poi del danno sportivo diventa anche un ingente danno economico che va poi così a caratterizzare già un quadro tutt'altro che erosio ovviamente poi impattato da questa maletta pandemia che ha un peso specifico sui conti notevolissimo e invece la juventus davvero da auto lesionista fa di tutto per complicarsi ulteriormente la vita prende tre pappine dal mila in una gara che onestamente per pura decenza professionale non voglio analizzare perché credo che non ci sia nulla da dire quantomeno qua sul mio canale youtube poi invece il mio punto di vista giornalistico potete trovare tranquillamente su gol.com dove ho scritto il pezzo partita e le annesse pagelle onestamente si fa fatica a trovare le giuste parole che non sono arrivate neanche al termine del match di andrea pirlo che ha detto chiaramente io non mi faccio da parte sono a disposizione della società poi ovviamente il club prenderà le sue decisioni però vado avanti con l'entusiasmo per quanto concerne il mio lavoro e oggi qua alle mie spalle lo stadio non abbiamo visto né del lavoro né dell'entusiasmo abbiamo visto quella che io amo definire ormai da qualche mese a questa parte una cozzaglia di individualità giocatori gettati lì a caso in mezzo al campo e che che poi io onestamente propongono il nulla veramente mischiato al niente davvero è difficile pensare che la juventus in un lasso di tempo così ravvicinato sia riuscita a passare poi da uno scudetto sudato non bellissimo da un punto di vista proprio della conquista perché contestualizzato poi proprio al boom della pandemia contestualizzato anche una squadra ovviamente faccio riferimento a quella di maurizio sarri che non era diventata empatica però qui siamo andati ben oltre perché siamo oltre scusate gioco di parole la decenza cioè qui non c'è niente non c'è assolutamente niente ci sono solo macerie che poi creeranno una ripartenza che dovranno sfociare inevitabilmente nel rialzare la testa ma non sarà semplice per chiunque dovrà farlo dovrà metterci mano è che si tratti poi di area sportiva e che si tratti nello specifico anche di responsabile e dello staff tecnico quindi dell'allenatore malissimo tutto male proprio quello che credo lasci più deluso il tifoso bianco nero è l'approccio e l'atteggiamento è il giocarti uno spareggio champions in queste condizioni mentali perché qua non ci sono attenuanti non ci sono discorsi alle superlega che tengano qua c'è semplicemente poi da fare il proprio dovere perché stiamo parlando comunque di professionisti lautamente pagati e chiamati quindi a esercitare la propria professione migliore dei modi quando parliamo della juventus parliamo di uno dei club con i montengaggi più alti su scala internazionale il più alto in italia quindi si può anche accettare un anno che che diventi poi di transizione si può accettare che fisiologicamente si possa anche abdicare si può accettare il fatto che come è avuto in questa stagione l'avversario sia più forte gli avversari siano più forti perché non stiamo più parlando come punto di riferimento dell'inter solamente che ha fatto un campionato a parte in relazione a quello della juventus stiamo parlando di una squadra che molto probabilmente non si qualificherà alla prossima inizione della Champions League e questo è imperdonabile per chiunque lavori in questa società perché poi bisogna assumersi le proprie responsabilità passare in chiave progettuale dall'acquisto di Cristiano Ronaldo perché si pensava che mancasse solamente lui per vincere questa benetta coppa che manca nel 1996 addirittura a ottenere l'aliminazione dalla Champions League onestamente viene da pensare viene da pensare innanzitutto come ci siano stati degli errori di presunzione e soprattutto c'è da fare davvero mia colpa è un bagno di umiltà per fare in modo che la Juventus torni a performare nel miglior modo possibile già nella prossima stagione ovviamente essendoci delle macerie sarà difficile ripartire questo il tifoso giuventino se lo deve mettere bene in testa anche perché se Europa League sarà vediamo quello che succederà se non sarà Champions League in generale è inevitabile anche che ci sia un ridimensionamento a livello di costi d'altra parte se poi analizziamo quelli attuali di questa rosa che addirittura non si qualifica per la prossima edizione della Champions League molto probabilmente beh ben venga anche qualche taglio qua e là e anche a livello di scelte impopolari tagliando giocatori che godono di credito infinito ma che soprattutto gli ultimi tempi alla Juventus hanno fatto più chiacchiere social che altro ma come adesso non voglio andare nella retorica non voglio andare colunquismo questa è la semplice realtà dei fatti perché credo che il tifoso giuventino in questa stagione sia stato umiliato in lungo e largo dal 3-0 rifilato alla Fiorentina in casa proprio qua allo stadio un stesso risultato oggi contro contro il Milan il Benevento che ha vinto una sola partita nel nuovo anno e l'ha fatto proprio allo stadio e rischia seriamente di retrocedere eliminazione contro in tutto forche trascendentale Porto tante cose tanti casi che hanno davvero dato l'impressione che la Juventus in questa stagione non abbia funzionato niente da qualunque lente la si guardi e soprattutto analizzando tutte le tematiche che riguardano questo club c'è area di grossissima confusione in campo dove non esiste nulla dove non c'è niente e la Juventus con il trascorrere delle settimane si è trascinata auspicando poi che il fallimento come tu prima non diventasse catastrofe e invece impegnandosi la Juventus sta riuscendo a completare l'opera proprio per far sì che questa venga ricordata come una delle stagioni più fallimentarie di sempre della storia Juventina perché questa Juve rispetto a quelle di Ciro Ferrara barra Alberto Zaccheroni rispetto anche a quella di Gigi Del Neri ha una rosa tale che quantomeno ti porta a pensare che possa lottare sulla carta per uno scudetto che possa arrivare quantomeno a un quarto di Champions League ma invece la delusione proprio nasce dal fatto che non ci sia nulla non ci sia nulla non ci sia neanche il senso di appartenenza è una squadra è un qualcosa di apatico un qualcosa di senza anima in Milan che oggi ha fatto il puro compitino non è riuscito a sfondare ripetutamente merita la Champions League sicuramente infinitamente molto di più rispetto alla Juventus che da domani inizia una settimana un po' così fatta di Sassuolo fatta poi di Inter poi la fine di Coppa Italia contro l'Atalanta che adesso assomiglia tanto a un incubo per chiudere poi la stagionaccia contro il Bologna ma da domani bisogna andare oltre bisogna essere lungimiranti non bisogna essere miopi bisogna capire come ripartire da chi ripartire in dirigenza e per quanto riguarda ovviamente allenatore e calciatori perché credo che poi queste analisi debbano essere effettuate a mente fredda non a caldo non di pancia però la Juventus ha davvero bisogno di una rivoluzione per fare in modo che torni un principio di continuità e che porti di nuovo questa società a competere per i massimi livelli italiani ed esteri pura utopia allo stato attuale delle cose intanto inizia anche a piovere però si può chiudere questo video un po' come la stagione della Juventus fallimento assoluto figuraccia l'ennesima di una lunga serie in questa annata calcistica ed è bene che poi i bianconeri iniziano a riflettere davvero su cosa iniziare a fare domani perché è già troppo tardi il tifoso bianconero credo che sia anche molto molto stanco e provato da un punto di vista mentale fatemi sapere cosa ne pensate di questa analisi qua sotto nei commenti se ti fate Juventus iscrivetevi al mio canale youtube alziate la campanella e mettete like i contenuti un abbraccio